Capitolo 18 Ingeborg scoprì che quegli attimi di elevato trasporto, così primi di pulsanti emozioni, non duravano, non erano definitivi, non costituivano, come invece aveva creduto con tutto il suo cuore, una condizione perenne di comunione, imperitura, devozione, conseguita fatica, in cui finalmente crogiolarsi. Piuttosto scoprì che persino la più trascurabile inezia poteva decretarne la fine, per esempio il sopraggiungere dell'ora di andare a letto. Capì che quel preciso stato d'animo non sarebbe più tornato, che sarebbe caduto nell'interno oblio. Acquisì tale consapevolezza e con grande sorpresa la mattina seguente a colazione. Aveva preparato il caffè, con l'inalterata radiosità che dalla sera precedente ancora albergava in lei, conferendole un aspetto roseo e sognante. Quando pensava al marito, non poteva non appellarlo il caro Robert. Con il capochino da un lato, mentre affettava il pane, Ilse era un po' indisposta dopo il marzapane e il sorriso stampato sulle labbra, rimuginava sull'incredibile quantità di amore che il mondo riusciva a produrre. Quando il marito entrò, Ingeborg, con il viso raggiante, gli corse incontro, pronta a riprendere lo stato d'animo della sera precedente, nell'esatto punto in cui l'ora di andare a dormire ne aveva decretato l'interruzione. Da quel momento però, Herr Dremel aveva viaggiato con il pensiero per miglia e miglia. A malapena si accorse della moglie. Dopo un bacio dato con aria assente, si sedette per mangiare. Senza dubbio alcuno, ogni cosa gli appariva venne una luce di assoluta ordinarietà e consuetudine, alla stregua del pane e del caffè che ogni giorno costituivano la sua prima colazione. Davanti a sé vedeva solo sua moglie, una donna che quanto prima sarebbe diventata madre. Si trattava di un fatto del tutto normale, comune e soddisfacente, ed essendo la questione oramai stata definita e la gioia e le emozioni iniziali opportunamente provate e dimostrate, era libero di tornare a concentrarsi sul lavoro. Ormai non vi sarebbero più stati quei momenti così frequenti negli ultimi sei mesi in cui la condizione di sua moglie, o per meglio dire l'assenza di condizione, si era imposta alla sua attenzione con tutto il fastidio di una mala erba che infestava le culture del suo pensiero. La questione era sistemata ed egli la cantonò nel modo in cui ogni lavoratore coscienzioso deve accantonare qualsiasi elemento di disturbo. Capitava infatti che proprio quel mattino fosse profondamente assorto nella funzione della potassa nella composizione dei carboidrati. Era stato alzato fino a tardi, ben più a lungo dell'ora in cui Ingeborg, sentendosi tutt'uno con le stelle del firmamento, se n'era andata a letto, impegnato in olugubrazioni riguardanti quel composto. Voleva più amido nel frumento e più fibra nella paglia. Sua moglie non era ancora giunta a metà del corridoio su cui si affacciava la loro camera da letto, che già la sua mente era balzata indietro al problema della potassa. Voleva più umido nel frumento, più fibra nella paglia e meno pestilenze e fungine nelle bietole da foraggio. A colazione, dunque, i suoi pensieri erano così appiccicosi per via del glucosa e dello zucchero di canna dei carboidrati digeribili che non riuscì ad avere la mente sufficientemente sgombra neppure per leggere il giornale. Rimase perciò seduto, ruminando pane e burro, gli occhi chini sul piatto. «Ebbene, Robert!» disse Ingeborg, sorridendogli oltre il bricco del caffè, un sorriso in cui ancora occhieggiava il gioioso senso di importanza della sera prima. «Ebbene, piccola?» rispose lui in modo assente senza nemmeno guardarla. «Ebbene, Robert!» chiese di nuovo in tono di sfida. «Che cosa c'è, piccola?» le chiese sollevando gli occhi con quella leggera irritazione propria di chi venne interrotto. «Ma come? Non sei più compiaciuto?» gli chiese fingendosi indignata. «Compiaciuto? Ma riguardo a che cosa?» Ella lo fissò, senza più fingere nulla. «A riguardo a che cosa?» ripete lei sentendo la mascella che si abbassava di scatto. «Se n'era già dimenticato!» Ingeborg ritene quell'episodio davvero straordinario. Assorta nei suoi pensieri, si versò del caffè lentamente. Robert se n'era dimenticato. «Ciò che aveva sempre detto di desiderare di più nella vita era qualcosa che una volta conseguita la certezza di ottenerla, si poteva dimenticare nel giro di una notte. In quel momento le candele sull'albero di Natale non potevano apparirle più estinte della dolce intensità di sentimento mostrato dal marito la sera prima. Bene, Robert era fatto così. Evidentemente era ciò che accadeva agli uomini dotati di una certa intelligenza, ma... e le lacrime?» Si era emozionato al punto di versare delle lacrime. Senza dubbio, quindi, aveva provato la più profonda, sorgente commozione. «Incredibile, però», pensò Ingeborg aggiungendo lo zucchero nella tazza, «che tutto ciò si fosse già annullato». Bene, Robert era fatto così. Non si abbarbicava ai momenti emotivamente più memorabili, come invece accadeva a lei, ma li sorvolava con intelligenza, ed il resto poteva considerarsi solo una sciocca, si supponeva che un uomo dotato del suo cervello vi indugiasse all'infinito, rallegrandosi senza posa per la felicità conseguita. Lasciò il caffè, si alzò e raggiunse il marito per porgergli un bacio. «Caro Robert», mormorò, accoccolandosi accanto a lui, fiera, persino in quel momento, che gli fosse dedito a riflessioni tanto profonde da dimenticare un evento di tale importanza. Un bambino in arrivo, l'inizio di una nuova vita, ma non era infatti qualcosa di incommensurabilmente grandioso. Allora era evidente che i suoi pensieri, i pensieri di suo marito, erano qualcosa di ancora più grande. «Caro Robert», mormorò nuovamente, baciandolo con aria orgogliosa. Nonostante la soddisfazione di aver raggiunto la meta tanto agognata, Ingeborg trovò all'inverno un periodo alquanto difficoltoso. Lei, che a malapena aveva percezione del suo corpo e che in esso aveva trovato lo strumento perfetto per il compiacimento della sua volontà, fu obbligata a pensarlo in continuazione. La dominava totalmente, obbligandola ad assecondarlo all'infinito anche prima di lasciarsi utilizzare solo un pochettino. La costringeva a dirigersi verso il divano e lì sdraiarsi, rifiutandosi caparbiamente di compiere il minimo sforzo. Inoltre la metteva regolarmente in condizione di doverlo persuadere a non farsi infastidire così tanto dall'odore della carne di maiale, oppure dalle zaffate che provenivano dalla distilleria di Glönbeck, dove si produceva un liquore di patate non appena il vento soffiava nella loro direzione. Quando tali esalazioni penetravano attraverso le fessure delle finestre, Ingeborg chiudeva forte gli occhi e si concentrava sul profumo delle rose e dei rotodendri, e anche sul meraviglioso fluvio di fiori d'arancio emanati da quei lupini e arancioni che in estate crescevano dappertutto. Presto o tardi, comunque, i suoi sforzi, per quanto valorosi, sfociavano inesorabilmente in un tremore dilagante, in sudori freddi e nella sensazione di estrema debolezza, propri della gravidanza. Con il passare dei giorni, il suo corpo diveniva sempre più schizzinoso, persino nei confronti di inevitabili odori quotidiani, come quello della tostatura del caffè o della friggitura delle patate, un inconveniente davvero sgradevole quando tali incombenze dovevano venire svolte in prima persona, e spesso accadeva che Ulze, uscendo da retrocucina, rientrando dal cortile fresca e piena di salute, trovasse la sua padrona accasciata su una sedia, con il capo riverso sul tavolo in condizioni assurde. Se considerava come tutti le avessero assicurato che la gravidanza non era una malattia, ma per la sua padrona le due condizioni coincidevano nel modo più assoluto. Ulze la osservava con una sorta di divertita solidarietà. Frau Pastr dovrà ancora peggiorare prima di sentirsi meglio, profetizzava con allegria. Quando le cose andavano proprio male e Ingeborg, con colorito spettrale e in preda i sudori freddi, si aggrappava alla domestica, lottando silenziosamente per far affluire un po' di colore alle guance al genare il languore, Ulze pronunciava la formula più sentita dalle labbra della bronessa Glönbeck, e annuendo per incoraggiarla, anche se non senza l'aria di provare un certo compiacimento, ripeteva a sua volta, che ha detto A deve poi di certo dire anche B. In quei combattimenti ad armi impari, quando il morale di Ingeborg raggiungeva gli inferi, ella chinava il capo, chiudeva gli occhi e sentiva in ogni fibra del suo essere quanto odiasse o quanto ardentemente odiasse B. Nei mesi successivi, il divertimento procuratore dallo svolgere i lavori domestici, da dover far tutto da sé, andò progressivamente riducendosi. Non si alzava più dal letto al mattino, lieta di affacendarsi ai suoi compiti e di propizzare l'inizio di un nuovo viaggio imbandendo una tavola allegra per la colazione del suo uomo. Ora si sentiva pesante e riluttava ad affrontare il complesso procedimento della vestizione, certa che non appena fosse stata in posizione retta, si sarebbe subito sentita male. Incominciò a vagheggiare l'assunzione di un'altra domestica, una cuoca, Herr Dremel, che lasciava l'organizzazione della casa totalmente nelle sue mani, a consentire senza indugio. Ma quando arrivava il momento di compiere i passi necessari, di far pubblicare annunci o doversi recare fino a Königsberg, presso un'agenzia di collocamento di personale domestico, il suo entusiasmo vaniva e non se ne faceva più nulla. Qualsiasi azione le appariva un ostacolo insormontabile. Temeva di sentirsi male, per strada o addirittura svenire. Di chiedere aiuto a Robert non se ne parlava neanche, dato che le era impossibile sapere quale problema di prossima soluzione avrebbe potuto disastrosamente interrompere. Il dover distogliere un uomo dal corso dei suoi pensieri, imporgli di perdere il filo del ragionamento, magari rovinare una linea di pensiero risolutiva per chiedergli di scrivere un annuncio di lavoro o addirittura di accompagnarla a cercare una cuoca, assumevano nella sua mente le sembianze di mostruosi misfatti. E poiché in zona non fu possibile trovare nessun aiuto, dato che ogni moglie e ogni madre, tranne che dame di lignaggio, pare la baronessa Glemberg, svolgeva personalmente quei riti domestici di maggior valore, ella interruppe la ricerca. Si rassegnò a un destino che dopo tutto era quello di una qualsiasi altra donna di Kökensee. In ogni caso, le risultava molto più facile lasciar perdere piuttosto che dimostrarsi energica. La sua volontà si indeboliva sempre più. Una volta, nel recitare le preghiere, chiese la grazia di essere dispensata per sempre dal dover vedere oppure odorare del cibo, ma si interrompe subito, fulgorata dal pensiero improvviso e raggelante che solo la morte avrebbe potuto affrancarla dalla cucina. Con lei, Herdremer, si comportava come sempre in modo buono e gentile. Pur non vedendo nulla di strano, bensì cogliendo il lato più normale e soddisfacente delle sue condizioni, quando se ne ricordava provava come poteva risollevarla e incoraggiarla. Quando, entrando in soggiorno all'ora dei pasti, non la trovava presso il tavolo ma sdraiata sul divano, con il viso rivolto alla parete e il naso affondato in un arancio affinché l'odore della cena potesse venire in qualche misura dissimulato o mitigato, egli le dava piccoli colpetti affettuosi prima di sedersi a tavola dicendo «povera piccola». Un uomo non può comunque continuare per nove mesi a ripetere «povera piccola». Inevitabilmente quindi si verificavano dei momenti di vuoto tra queste manifestazioni di solidarietà, anche se almeno in un paio di occasioni egli posticipò di alcuni minuti rientro al laboratorio per rincuararla, descrivendo la grande felicità che l'attendeva alla fine di quei mesi estenuanti. L'attimo meraviglioso, impareggiabile, in cui una giovane madre posa per la prima volta lo sguardo sulla propria progenie. «Vedo già la mia mogliettina così orgogliosa, così felice», diceva. Ogni volta che si raffigurava quella scena, le si avvicinava, gli occhi fuscati dalle lacrime, per accarezzarle i capelli. In quegli istanti Ingeborg dimenticava la sua nausea spossante e gli sorrideva, vergognandosi del fascino che ogni cosa le procurava. Il sommo bene. Che cos'era mai un po' di nausea di fronte al conseguimento del sommo bene? «Sarà intelligente come il padre», profetizzava Ingeborg, togliendogli la mano dai suoi capelli per portarla alle labbra e a porvi un bacio, guardandolo dal basso con un sorriso. «E io dovrò raddoppiare lo spazio dentro al mio cuore per far posta a due amori», diceva Herd Remmel. Allora Ingeborg rideva di gioia e per un bel pezzo riusciva quasi a gloriarsi della sua indisposizione. Le cose iniziarono a migliorare verso marzo, quando la neve che per tutto l'inverno si era accumulata ai lati dei sentieri che conducevano al cancello incominciò a sciogliersi trasformandosi in fango. A mezzogiorno le stallatiti di ghiaccio incrostate alle gronde iniziavano a gocciolare. I raggi del sole tornavano di nuovo a battere caldi e venti ululanti sembravano far stridere il mondo intero. Ingeborg sentì che la presa della debolezza si andava allentando. Il suo viso perse l'aspetto smunto e scavato. Una crescente dignità caratterizzava ora i suoi passi che con il trascorrere delle settimane divennero sempre più lenti e grevi. Dopo mesi trascorsi nell'incapacità di guardare il cibo divenne sorprendentemente famelica, improvvisamente vorace e presa a mangiare in continuazione. Il divertito interesse della domestica continuava. Sua madre aveva avuto 14 figli e continuava regolarmente ad averne altri. Pertanto Ilse conosceva bene ogni fase della gestazione, mentre Frau Pastor prendeva tali fasi in modo decisamente più tragico, con maggiore difficoltà e tensione. Bene o male comunque si trattava sempre della stessa storia. La prossima volta sarà più facile, vaticinava Ilse con l'intento di sollevarle lo spirito. Ma il pensiero di una prossima volta, prima ancora di aver terminato questa, deprimeva Ingevor più che risollevarla. Aveva scritto a casa per annunciare l'importante notizia e ne aveva avuto in risposta una lettera di Mrs. Ballyvan, dai toni ispirati alla più totale assenza di ogni entusiasmo. L'arrivo del bambino veniva menzionato solo marginalmente, indirettamente e, posto che delle parole scritte possano sussurrare, insussurri. Tuo padre è molto affaticato, proseguiva la lettera allontanandosi con la massima fretta da argomenti di dubbio e decenza come un individuo di razza tedesca ancora in gestazione. Per via dell'eccessivo carico di lavoro. Lo aiuterei volentieri con la sua corrispondenza, ma calzonevole come sono, temo che non sopporterei lo sforzo. Il poveretto necessiterebbe di un periodo di cambiamento d'aria e riposo assoluto. Purtroppo, essendo privo di ogni aiuto e obbligati come siamo ora a ridurre le spese, non vi è missa alcuna possibilità. A che Ingeborg d'impulso? Scrisse loro, invitandoli in toni suadenti e amorevoli, a fare le visite a Kökensee, quale soluzione per il cambiamento d'aria più radicale che potesse immaginare, nonché il più economico? La risposta fu un oltre modo dignitoso. In aprile, un pomeriggio di bel tempo, la baronessa Glöhmbeck le fece visita per informarsi sull'andamento dei preparativi e con stupore apprese che non era in corso alcuno. «Ma mia cara Frau Pastor!» esclamò, alzando al cielo le mani inguantate in pelle di capretto gialla. «Perché? Che cosa mi manca?» chiese Ingeborg, che nella sua condizione di svantaggio era stata troppo occupata nell'estenuante lotta contro le faccende domestiche per poter concepire ulteriori fatiche. «Beh, un corredino, naturalmente. E poi fasce, triangoli di flanella, camicini. Ma vostra madre? Come mai vostra madre non vi ha detto nulla?» «Mamma è molto cagionevole», rispose Ingeborg arrossendo un poco. «E sarà necessario avere anche un fasciatoio?» «Un fasciatoio? Naturalmente, per cambiarvi sopra il bambino. È una culla, è una carrozzina, e anche molte cose per voi, cose necessarie, indispensabili». «Quali cose?» chiese Ingeborg con un filo di voce. Aveva il morale a terra, si sentiva ogni giorno sempre più stanca. Solamente la fatica di rimanere al passo con i lavori domestici, di tenersi pulita e ordinata, i vestiti che sembravano rimpiccionirsi gradualmente ogni volta che li indossava, assorbiva tutte le sue energie. Si sentiva svuotata di ogni forza. «Quali cose?» ripetè, e le sue mani adagiate svogliatamente in grembo erano sudate e flaccide. La baronessa rispose alla domanda sciorinando una lista infinita e sorprendente, con tutto l'entusiasmo e l'interesse di chi è in possesso di ottima salute. Laddove non arrivava il suo inglese, sopperiva con il tedesco. L'elenco iniziava con un fasciatoio, articolo in apparenza molto importante, e terminava con un'ostetrica. «Le avete già parlato?» «No», disse Ingeborg. «Io non sapevo. Dove abita?» «Qui nel nostro villaggio?» «Frau Dosh! Siete fortunata che non abiti ben più distante. È una persona molto buona, un po' anziana, forse, ma se non altro in passato ha dato prova di una certa abilità. Dovresti incontrarla subito e mettervi d'accordo». «Oh», disse Ingeborg, sentendo che la più grande fortuna di tutte sarebbe stata il poter sgaiatolare via da qualche parte e non dover mai più organizzare alcunché. Dopo quel colloquio, comunque, le divenne chiaro che alcuni preparativi erano purtuttavia inevitabili. Si risolse quindi di recarsi in carrozza Möe con Ilse e da lì di prendere il treno per Konigsberg per dedicarsi un'intera giornata di acquisti. Con le tasche piene di panini e la testa piena di dubbi, andò per la prima volta a far compiere in lingua tedesca. Ilse, con aria di importanza e sorprendentemente abbigliata con calze e nuovi capi primaverili, le sedeva accanto, occheggiando a destra e a sinistra in cerca di qualche testimone del suo splendore. Herr Dremel le impartì numerosi e severi ordini, affinché si prendesse cura della sua padrona. Tra un'occhiata e l'altra, quindi, ella le poneva domande ben udibili riguardanti le sue condizioni e il suo grado di benessere. Le condizioni di Frau Pastor, però, erano pur sempre quelle di una donna pericolosamente sballottata. Ingeborg si tenne forte al corrimano da una parte e al braccio di Ilse dall'altra, fin tanto che i ciattoli del manto stradale di Möe furono superati. Una volta raggiunta la stazione, fu riconoscente di poter scendere dall'alta carrozza, pur rendendosi conto di muoversi con un'imbarazzante goffagine. Stentava a credere che l'ultima volta che si era trovata lì era salita sulla stessa carrozza con la leggerezza di un uccello. Ora, invece, si sentiva umiliata, vergognosa del suo corpo sgraziato e distorto. Per contrastare la sensazione di disagio, si aggiustava in continuazione l'esigua mantella, tentando di riavvicinarne le falde e la sciarpa che aveva al collo. Si sentiva addosso gli occhi di tutti e aveva la sensazione di essere l'unica donna in attesa di un bambino. Tutte le altre sembravano persone senza impedimenti, libere e vigorose, come Ilse. Quell'improvvisa lentezza, quell'incapacità di togliersi in tempo dalla traiettoria di carretti e facchini, le dava la sensazione di essersi trasformata all'improvviso in una vecchia. A Königsberg il rumore che pervadeva le strade, ovvero non situati i negozi, era assordante. Tutti i mezzi pesanti da trasporto del mondo sembravano quel giorno percorrere l'acciottolato e i binari del tram furiosamente in entrambe le direzioni, trasportando ciò che, a giudicare dal frastuono, pareva trattarsi di casse colmi di bottiglie di birra vuote o contenitori di latte o forse ancora enormi carichi di stecche di ferro, che cozzando l'una contro l'altra producevano un clangore intollerabile. Il baccano, inoltre, veniva incrementato dai tram elettrici che sostavano in processioni infinite, scampanellando infuriate all'indirizzo degli altri mezzi. Ingeborg, sconcertata, si aggrappava al braccio di Ilse. Dopo la solitudine del loro paesino, disperso fra i campi e dopo la dignitosa tranquillità di Red Chester, sentiva col rumore martellarle in testa, peggio che una gragnuola di pugni. I passanti non erano molti, ma quelli che incrociavano sembravano provare un'enorme curiosità nei loro confronti, arrivando fino al punto di arrestarsi all'improvviso di fronte alle due donne pur di non perdere alcun dettaglio. In particolare il loro interesse si concentrava su Ingeborg, dato che Ilse era comunque una figura familiare, niente di più che una ragazza di campagna dalla pelle bruciata dal sole, i capelli ugliati per l'occasione e con indosso ai vestiti della festa. Ingeborg, invece, era chiaramente una straniera e quindi una vera rarità. Incrociando, le uomini e le donne si fermavano, i bambini rallentavano il passo e i ragazzini fischiavano, producendo a voce alta commenti che il suo tedesco ancora tentennante faticava a decifrare. Mentre si aggrappava sempre più forte al braccio di Ilse, si sentiva arrossire e impallidire in successione. Immaginò che il sospetto apparisse ancora più grottesco di quanto avesse mai temuto possibile e ne ascrisse tutta la colpa alla sua condizione, ignorando in quella sua prima uscita in una città tedesca di provincia, che in realtà la causa di tanto interesse era la sua diversità, i suoi abiti di foggia differente e i capelli acconciati in maniera insolita. Ingeborg procedette con tutta la velocità possibile per allontanarsi dalla folla e infilarsi in un negozio, e mentre guardava dritto davanti a sé, combatteva l'irresistibile desiderio di piangere. La zona intorno alla bocca era imperlata di piccole gocce di sudore. Fu quindi con estrema gratitudine che all'interno del negozio di tessuti e biancheria Börding e Kühn pote lasciarsi andare su una sedia, approfittando del tranquillo momento di calma che si verificava verso mezzogiorno. Anche la donna che stava dietro il bancone è presa a fissarla, ma Ingeborg si disse che perlomeno si trattava di una persona sola. La commessa, molto educatamente, la postrofò con la formula Gnadiges Heulen e le chiese se il nascituro fosse maschio o femmina. «Santo Dio!» esclamò Ölse. «Come potremmo mai saperlo?» Ma Ingeborg con calma e decisione affermò a trattarsi di un maschio. «In tal caso, disse la giovane donna, avete bisogno di nastrini azzurri!» «Davvero?» chiese Ingeborg desiderosa di crederle. Da alcune scatole verdi rivestite di calicò, recanti la scritta neonati, la giovane donna estrasse una serie di minuscoli indumenti. Vi erano giacchini, camicini, cuffiette e tutto ciò che serviva per rivestire la parte superiore di un lattante. «Ecco», disse la giovane donna spingendo sul bancone in direzione di Ingeborg, «una pila di quegli indumenti». «Oddio!» esclamò Ölse, in rapida estase di fronte a tante esiguità, cacciando il pollice in una delle minuscole maniche e tenendola sollevata per mostrare quanto aderisse. «Nicht war?» convene alla giovane donna, benché senza traccia di emozione. «Però», disse Ingeborg, cercando con cura le parole appropriate, «il bambino non terminerà lì, nel mezzo. Continuerà. Sarà un bambino completo. Avrà gambe e tutto il resto. Come si riveste tutto il resto?» La giovane donna guardò Ingeborg per alcuni lumi. «Avrà un resto, Ölse», disse Ingeborg, appellandosi pure a lei, «queste cose sembrano vestiti perché rovini». «Aso!» disse la giovane donna, illuminata da un barlume di comprensione, e voltata si tirò giù, con gesti rapidi e grande destrezza, altre scatole verdi, dalle quali, dopo aver tolto il coperchio, estrasse quadrati di diverso tessuto. Lino, flanella e anche un altro materiale, bianco e spugnoso. «Fasce!» pronunciò tenendole in mano. «Fasce?» disse Ingeborg. «Fasce!» confermò Ölse. E poiché Ingeborg si limitava a osservare la giovane donna ormai consapevole d'ignoranza di quella cliente, produsse una sorta di materassino infilato in una sacca di tessuto bianco ornata di gale. Frugando sotto il bancone, pescò poi una bambola dall'aspetto polveroso, che con maestria avvolse in fasce fin sotto le ascelle. Infilò quindi la bambola nella sacca, tenendo fuori solo la testa, e la fissò ben stretta con della fettuccia. «Così!» disse, dando a quell'oggetto impacchettato con ordine a una sonora pacca, poi traendola a sé, finse di cullarla amorevolmente tra le braccia. «Ammirate il neonato!» disse. Dopo quella dimostrazione, Ingeborg si mise senza più remore nelle mani di quella persona così indubbiamente ricca d'esperienza. Acquistò tutto ciò che le fu detto di acquistare. Acquistò persino la bambola con cui esercitarsi. «Non farà proprio tutto, naturalmente», spiegò la giovane donna. L'unica cosa che non comprò fu una macchina da cucire per confezionare da sé le fasce, come invece se le aveva consigliato mirando a una maggiore economicità. La commessa si proclamò subito contraria a quell'acquisto. Disse che le vere signore preferivano che fosse a Wördingen Kühn a svolgere quel compito il loro vece. Ilse ribatte che le vere madri quel lavoro lo svolgevano da sé. Anzi, una delle principali fonti di gioia di quel periodo, aggiunse Ilse, era proprio il vederla a casa riempirsi gradualmente di fasce. Nell'udir ciò, la giovane donna ricciò le labbra, si strinse nelle spalle e assunse un'espressione scostante. Ilse, risentita per quell'atteggiamento, le chiese in toni concitati che cosa potesse sapere una come lei delle gioie della maternità. Per qualche motivo, la giovane donna si mostrò risentita, anche se nulla sembrava più certo che la conoscenza delle gioie della maternità avrebbe significato il licenziamento immediato da Wördingen Kühn. Ne scatturì un alterco al di sopra del bancone, che trovò compimento solo quanto Ingeborg si schierò totalmente dalla parte della commessa, nonché dell'interesse di Wördingen Kühn, ordinando, secondo le istruzioni della baronessa, dieci dozzine di quadrati di panno già pronti. «Potrei morire se dovessi far l'orlo a dieci dozzine di qualsiasi cosa», spiegò Ilse in tono di scusa. Ilse, che aveva dispensato il consiglio animato dalle migliori intenzioni, ci rimase molto male nel vedere che la giovane donna la guardava dall'alto in basso con aria di sofficienza. Pertanto l'unica onorevole via d'uscita a sua disposizione fu mettere il broncio, anche se ne avrebbero fatto volentieri meno in un'occasione più unica che rara, nonché così eccitante come quella della gita. Pur sentendosi obbligata a offendersi in quella circostanza, Ilse proseguì poi accanitamente nello stesso atteggiamento durante l'intero viaggio verso casa, per tutto il resto della giornata, e né dolci, cioccolata o sorvetti, successivamente allergiti con coscienziosità da parte di Ingeborg in pasticceria, furono in grado di risollevarla dal pesante malumore. Quando alla sera Ingeborg si infilò a letto, si trovava in quello stato d'animo avvilito che tanto spesso viene definito filosofico, visto che Ilse, che rappresentava il suo sostegno e il suo rifugio, continuava a rifiutarsi di rivolgere la parola. Era consapevole di averla ferita nei sentimenti e tale pena veniva percepita in quel momento come la proverbiale ultima goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso della già pesante giornata. Credo che anche questo faccia parte di B, si disse. Povera me, aggiunse con un improvviso modo di ribellione, che si estinse immediatamente per la vergogna stessa di averlo provato. Credo proprio che B non mi piaccia. No, credo proprio non mi piaccia nemmeno un po'. Capitolo 19 La nuova faccenda, comunque, le impose una concentrazione e un'eccitazione tali che non le permisero di annoiarsi un solo istante. Per quanto si sentisse indisposta, annichilita dal malessere ed esausta, si trovava pur sempre in una disposizione d'animo curiosa e interessata. Un evento di enorme portata la attendeva e ogni giorno trascorreva colmo di trepidazione. Ognuna delle sensazioni che si agitavano in lei l'aiutava a prepararle e a portarla un passo più avanti, e tutto si riveliava necessario al compimento di quel fine ultimo e di quell'importante evento. La vita era ricolma di significato, un significato semplice e primordiale. Ovunque Ingbro guardasse, vedeva sempre nuove ragioni a spiegazione di quanto le stava accadendo. Percepiva che le cose dovevano essere in qualche modo se voleva arrivare al supremo coronamento, e la parte che le aspettava in quel processo era davvero molto semplice. Si trattava soltanto di essere paziente. Spesso si sentiva depressa, ma mai per paura, solo perché quei mesi sembravano non aver mai fine e lei non riusciva più a sopportare il disagio della gravidanza. Di timori non ne aveva, dato che non aveva esperienza. Contemplava la parte finale della sua avventura, la parte alla quale Elsa alludeva come l'ora della difficoltà, con l'inscalfibile tranquillità dell'ignoranza. In generale quei mesi erano sempre stati liberi dagli sbalzi d'umore che Erdrebel si era preparato a sopportare, e anche in quello studio continuavano a mostrare esigenze particolari. Dinanzi ai suoi occhi non vi erano donne viziate e vezzeggiate che rappresentassero sufficiente e cattivo esempio da invitarle a emularle, e inoltre non poteva non prendere atto di come le donne del villaggio, nelle sue condizioni, lavorassero presso il lavatoio o nei campi fino al giorno del parto. Del resto, non da ultimo, la sua educazione le imponeva di non stare mai al centro dell'attenzione, ma di rimanere con modestia nell'ombra. Pianse solo una volta, d'inverno, in un'occasione in cui avrebbe pianto chiunque, quando il nevischio batteva sui vetri e il vento mughiava attorno alla casetta buia. Diede la colpa al mese di febbraio, non certo uno dei suoi preferiti, fingendo di ignorare che il vero motivo di quel pianto adirotto fosse l'essere stata relegata in una solitudine protratrasi troppo a lungo, e il comportamento di Ulse che se ne era andato da qualche parte senza nemmeno chiedergli il permesso, e il fatto che Robert non le rivolgeva la parola da giorni interi, e non aver nessuno che le venisse mai a portarla a lanterna se lei stessa non se la andava a prendere, e lei non andava perché si sentiva debole e temeva di farla cadere, e infine perché la cosa che desiderava di più al mondo era una madre. Non una madre in qualche posto, lontana, receste, ma una madre vera, morbida e calda, seduta accanto a lei in quella stessa stanza, con il suo braccio, quello della madre, sotto la sua testa, quella di Ingeborg, e la sua faccia, quella di Ingeborg appoggiata al suo seno, quello della madre. Una madre con piume dappertutto, come una sorta di chioccia sarebbe stata l'ideale, ma anche senza pretendere tanto si sarebbe accontentata di quel vestito di tessuto morbido, con inserti di delizioso pizzo nero, del tipo che non pungeva, che ricordava indossa sua madre. Quale conforto sarebbe stato, quale incredibile conforto, se almeno per mezz'ora avesse potuto poggiare la guancia contro quel vestito e tenercela così senza dire nulla. Si ritrovò a piangere sempre più copiosamente, continuando a ripetere a se stessa, con una sorta di rabbia interna, che febbraio non era davvero un bel mese. Quando Herr Dremel uscì dal laboratorio, chiedendo perché nessuno gli avesse portato la lanterna e trovando la casa immersa nell'oscurità, Elsa, assente ai suoi richiami, si stizzì. Ma quando egli stesso andò a prenderne una e la pose sul tavolo dove illuminò gli occhi gonfi e luccicanti di lacrimi di Ingeborg, egli si stizzì ancora di più. «Tutto questo è ridicolo!» esclamò abbassando gli occhi, un attimo per fissarla. «Così danneggerai mio figlio!» Ingeborg non pianse più.